Cari fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo. L'argomento del Vangelo di questa domenica è senza dubbio il perdono delle offese ricevute. E il Signore ci vuole insegnare la necessità di perdonare senza misura. Pietro gli chiede, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? Egli conosce già il pensiero del Maestro, sa già che bisogna perdonare. E propone lui una misura che esprime bene anche, diciamola, l'insegnamento cristiano. Rivoluzionario circa la misericordia. Dice sette volte. Sette è per gli ebrei il numero della perfezione. Pietro sa che bisogna perdonare dunque perfettamente, senza riserve e senza esitazione. Eppure la risposta di Gesù oltrepassa e dimostra che è insufficiente anche ciò che umanamente sembra il massimo che si possa fare. Gesù gli dice, non sette, ma settanta volte sette. E questo significa che la misericordia verso chi sbaglia e si fa ingiusto verso di noi va esercitata oltre ogni misura oltre ogni tentazione di portare il conto degli errori commessi. Gesù non ricorda qui nessuna condizione particolare come ad esempio ci vuole che ci si penta che si chieda scusa per dare il perdono, per ricevere il perdono. Invece qui il perdono appare come una norma assoluta che va applicata verso tutti in ogni caso, in ogni circostanza. E questo insegnamento di Cristo, diciamolo francamente, è tanto lontano dal nostro modo di pensare e soprattutto dal nostro modo di vivere. noi con tutta la buona volontà e sentendoci anche così tranquilli davanti a Dio diciamo perdono ma non dimentico e questo è un nostro modo molto umano di risolvere le inquietudini e le conseguenze, le ferite degli errori commessi in noi dagli altri. Ma perdonare è qualcosa che viene non da noi quindi il perdono, la capacità di perdonare sì, il Signore ce la richiede ma poi ce la dà Lui e il perdono è anche una grande guarigione ecco perché viene dal Signore solo Gesù guarisce le nostre ferite quelle soprattutto interiori, profonde della nostra anima solo Gesù guarisce e estingue i nostri risentimenti, i nostri rancori quelli proprio che si sono più sedimentati cristallizzati nel nostro cuore che quando crediamo che si siano dissipati si siano estinti che invece improvvisamente riaffiorano con tutta la loro forza di inquietudine e di insofferenza nel nostro animo quindi perdonare così come ce lo chiede Cristo è frutto del dono che viene da Lui è frutto quindi della fede di una grazia da invocare e allora dobbiamo pregare perché ci sia dato come dono di Dio questa capacità di perdonare come ce la chiede il Signore perché essa è così contrastante con la nostra limitata e fragile natura in più ci dice oggi il Signore che il dovere di perdonare deviva dal nostro continuo bisogno di farci perdonare da Dio Gesù si rifiuta di stabilire una misura massima al dovere di perdonare così come gliela chiede San Pietro ma non si rifiuta di spiegare qual è il fondamento e la ragione ultima di questa legge difficile di perdonare senza misura e lo fa con la bellissima parabola che il Vangelo di Matteo oggi ci offre in questa domenica un re ha un servo che gli deve diecimila talenti una somma enorme più che una ventina di miliardi delle nostre vecchie lire e mentre all'inizio senza tanti complimenti lo vuol vendere schiavo con la moglie e i figli per risarcirsi in qualche modo alla fine gli condona il debito addirittura senza richiedere nessuna restituzione nessuna garanzia per il futuro se non che il debitore graziato a sua volta vanta un credito da un suo compagno di servizio un credito irrisorio qualche decina di migliaia di vecchie lire ma che gli basta per farlo gettare in carcere contro ogni buonsenso in tal modo conclude Gesù per la crudeltà verso il collega questo servo perde il favore e il condono che gli aveva fatto il padrone noi dunque veniamo a sapere che la necessità di perdonare i debiti degli altri deriva da quella più grande più radicale che tutti abbiamo come necessità di farci perdonare i nostri debiti i nostri peccati verso Dio e per il Signore questo ragionamento è così decisivo che addirittura nella preghiera del Padre Nostro ci ha costretto a esprimerlo ogni giorno questo concetto rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e infine il Signore aggiunge questo insegnamento questa meditazione questa riflessione che la nostra come uomini la nostra condizione è in perpetuo in difetto nei confronti di Dio il nostro primo rapporto con Dio è quello di servo a padrone anche se noi cerchiamo di non ricordarlo tanto è certo è vero che l'amore indicibile di Dio ha sovrapposto a questo il rapporto di figlio a padre e leggendoci in Gesù Cristo ad essere suoi figli ma non è che questo fatto abbia annullato il rapporto nativo insomma nostro di servi verso il Signore siamo servi e siamo servi che devono tutto al loro Signore l'esistenza la vita la luce la possibilità di sperare la capacità di resistere combattere il male il coraggio di amarlo e di amarlo nonostante le nostre imperfezioni per questo ci vuole il coraggio ciascuno di noi è come un debito vivente nei confronti di Dio e ogni giorno del nostro tempo sempre carico di imperfezioni ogni atto della nostra condotta del nostro comportamento che non corrisponde mai del tutto a ciò che si dovrebbe fare come buoni servi e buoni figli di Dio non fa che crescere le dimensioni del nostro dissesto spirituale davanti alla ricchezza immensa del dono di Dio ma per fortuna se grande il debito più grande è la misericordia del creatore per noi come dice l'apostolo Paolo dove abbondò la colpa ha sovrabbondato la grazia coltivare quotidianamente questi pensieri fratelli e sorelle ci aiuterà ad essere anche più sapienti intelligenti più umili nella nostra vita di fede ci incoraggerà nell'arte difficile della pietà verso gli altri della comprensione delle mancanze degli altri anche verso di noi e ci procura procurerà il dono di tanta pace e anche della vera gioia perché perdonare ripeto e guarire dalle conseguenze che il maligno opera crea nell'animo di chi ha sofferto ha subito ha incassato qualche amarezza qualche ingiustizia qualche umiliazione da parte di qualcuno ecco ci ricorda questo una bella massima del grande domenicano francese Lacordaire che dice volete essere felici per un istante allora vendicatevi volete essere felici per sempre dunque perdonate buona domenica a tutti grazie